Che c'è? Agora, il laboratorio di teatro che si farà, si farà qua, nel famoso, famosissimo Levante Fiorentino per tutti, grandi attori che vogliono diventare ancora più grandi, attori piccoli che vogliano crescere gente che l'attore non lo vuol fare, va bene, guarda, sono sani anche quelli, anche di più forse venite qua per scoprire tradizioni, cultura, letteratura, sogni, incanto, innamorarsi, raccontare per accompagnarsi insieme in questo cammino della vita poi comunque si mangia anche bene, si sta bene, è accogliente, non costa nulla, è grato, è secco, è coperto a me mi sembra anche un po' troppo però, sarà un po'... io ci verrei, ai miei tempi queste cose non c'erano e nei tempi prossimi non ci saranno più, o venite ora o niente, è finita anzi, io chiudo anche la finestra perché... a me mi sembra